Amici di Edifici di Palitalia, oggi siamo al primo giorno di montaggio di questa villa più familiare sul lago di Garda. Questa mattina abbiamo iniziato con il montaggio dei primi cordoli e là in fondo si può già notare la prima parete della casa posata. In questa ultima casa abbiamo già optato per produrre delle pareti in paglia con all'esterno la fibra di legno in modo da agevolare poi l'intonacattura sulla muratura in legno. Bene, oggi prossimo con i lavori e ci vediamo per il prossimo aggiornamento qui in cantiere. Ti ricordo che la mia casa di paglia è edificiidipagiaitalia.com. Ciao!